Gli italiani hanno in forza nuova il proprio strumento di difesa, pertanto per un operaio è importante tesserarsi se vuole difendere lo Stato sociale, se vuole difendere il proprio lavoro e se non crede alle derive liberiste stile Marchion. Un agricoltore si deve tesserare perché Forza Nuova è l'unica difesa contro lo smantellamento della sua categoria, è l'unico movimento che si oppone a questa drastica deruralizzazione dell'Italia. Forza Nuova è a favore degli studenti, gli studenti si devono iscrivere a Forza Nuova proprio perché solamente attraverso un'idea nuova della scuola e dell'università come effettivamente collegamento a quella che è la nostra cultura classica ma allo stesso tempo al modus operandi italiani che ci ha reso forti e punto di riferimento in tutto il mondo. Si deve iscrivere a Forza Nuova anche l'esponente di quella classe media che è stata massacrata negli ultimi anni da politiche antisociali, da politiche sostanzialmente sfavorevoli alla piccola proprietà, alla piccola impresa. Gli italiani si devono iscrivere a Forza Nuova proprio perché sanno che non c'è altro partito, un movimento che ne difenda gli interessi. Dopo le grandi delusioni della PDL e della Lega rimane Forza Nuova e rimane un dovere per gli italiani di iscriversi a questo movimento.